Lieve aumento dei contagi a Torre Annunziata. Secondo l'ultimo bollettino si registrano infatti 13 nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore a fronte di 123 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 10,56%. Non si registrano guarigioni. Sono 64 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 51.581. L'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dall'11 al 17 ottobre è pari a 70,12. Sono 4.674 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.516 guarite e 94 decedute. A Torre del Greco invece nessuna nuova guarigione è stata registrata nella giornata di ieri, certificati due nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 563esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 82, totale guariti dal Covid-19 6.775, totale decessi 176.